Galleria Voci, i sogni diventano realtà. La Galleria Voci la trovi su Corso Progresso 41, Catanzaro Lido. Ti aspettiamo! È stata svolta dal compartimento della Polizia Stradale per la Calabria l'operazione d'indagine Ghost Car, che ha coinvolto oltre 10.000 veicoli con l'intestazione fittizia radiati dalla circolazione su tutto il territorio nazionale. Il fenomeno dell'intestazione fittizia dei veicoli costituisce un grave illecito, spesso premessa, di attività criminose di vario genere. L'attività di indagine predisposta alla Polizia Stradale della Regione Calabria ha consentito di elevare circa 245 infrazioni suddivise nelle province di Catanzaro, Vibo Valenzi e Crotone. Ai nostri microfoni abbiamo sentito il dirigente superiore della Polizia di Stato, Vincenzo Gigli. Gli aspetti più importanti sono quelli di avere per la prima volta proceduto alla cancellazione, alla radiazione di questi veicoli grazie all'introduzione dell'articolo 94 bis del codice della strada che è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 120 del 2010. I dati nazionali saranno commentati dal servizio Polizia Stradale. Io le posso dire che le maggiori regioni, le prime cinque, sono la Lombardia, l'Emilia Romagna, la Campania e il Veneto. Adesso la Quinta mi sfugge, ma comunque noi come Calabria siamo un po' più sotto, fortunatamente, almeno da questo aspetto. Ma cambia il fatto che la macchina, una volta che viene accertata che è fittizia, la Polizia Stradale fa richiesta di cancellazione agli uffici competenti. Questo non sottrae il bene dalla disponibilità del contravventore, però la macchina praticamente perde assolutamente di valore perché non può più essere immatricolata nuovamente e quindi nel caso in cui venga poi su strada riscontrato l'utilizzo dell'autodettura si procede alla confisca automatica del mezzo. Da questa indagine è emerso che questi veicoli vengono utilizzati per una serie di reati quali possono essere lo spaccio di sostanze stupefacenti, i furti, le rapine, l'omissione di soccorso in incidenti stradali, all'insolvenza fraudolenta perché non vengono pagati i vedaggi autostradali, e quindi tutta una serie di situazioni per cui togliendo dalla disponibilità di chi commette reati anche autoveicoli in questo senso, in teoria, riusciamo in qualche modo a...